L'anima femminile di casa Peugeot è rappresentata a pieno dalla squadra di volley unendo Yamamai di Busto Arsizio. Atlete sul campo, ma donne nella vita, Serena, Giulia, Francesca e Valentina, ma anche le straniere Anne, Lonnec, Johanna e Ciara, possono esprimere al meglio la loro femminilità a bordo delle vetture francesi 2008 e 208 XY. Durante il campionato 2013-2014, il Leone sarà infatti il loro principale alleato e le accompagnerà dalle allenamenti alle partite, dove cappeggerà sulle maglie della loro divisa.